Quando si parla di neri americani, il pensiero vola direttamente dalla schiavitù al movimento di Martin Luther King Jr. e al Black Power, fino ad arrivare al presidente Obama. Io voglio, invece, raccontarvi la storia di tante persone di colore che hanno lottato e votato le loro vite, prima delle più note e più famose attività degli anni 50, per un bene comune. Essere veri cittadini americani, al 100%, con gli stessi diritti e gli stessi doveri dei bianchi. Sono fiera di dire che la mia famiglia fa parte di questa gente. La loro crociata è quasi sconosciuta nella storia degli Stati Uniti. È per questa regione che ho scritto Casa Grant, adesso introdotto in italiano. Spero di vedervi mercoledì 2 dicembre al Centro Studi Americani per un dibattito sul libro con Pippo Baudo e Filippo Laporta. Grazie mille.